Buongiorno a tutti, benvenuti al quarto ed ultimo incontro della serie di webinar legati alla Open Education per l'innovazione didattica. Oggi il titolo dell'incontro è Mettere in atto Open Educational Practices e abbiamo come ospite Jonathan Poritz che è un facilitator per il Creative Commons Certificate, sia per gli Educator che per i Librarians. È un piacere per me averti con noi Jonathan. Anche per me, grazie, buongiorno a tutti e a tutti. Allora, condivido subito il mio schermo e passo alla modalità presentazione e ditemi, fatemi un cenno se va tutto bene. Ok, grazie. Dunque, anche oggi come nelle altre occasioni abbiamo la fortuna di avere sia il sostegno del Creative Commons Chapter italiano che il patrocinio di Wikimedia e Jonathan, da quando è arrivato a vivere in Italia, si è unito anche al network Open Education Italia, a cui peraltro siete tutti benvenuti. Dunque, oggi ci occupiamo appunto del tema delle Open Education Practices e l'obiettivo di oggi è capire come reperire delle pratiche open create da altri e magari adattarle ai bisogni del contesto in cui operiamo noi. Comprendere anche come mettere in pratica degli approcci di pedagogia aperta in funzione del gruppo di studenti o di partecipanti, anche se fossero partecipanti adulti o colleghi coinvolti nella formazione e anche e soprattutto mi verrebbe da dire valorizzare il ruolo delle studentesse e degli studenti nella creazione di conoscenza come co creatori dei contenuti insieme a voi e magari con la vostra guida. Da cosa partiamo oggi? Partiamo dal fatto che l'educazione non è legata solo ai materiali didattici che utilizziamo e la stessa cosa vale quando ci occupiamo degli approcci open all'educazione. Le pratiche open sono proprio legate a questo, come operiamo con un approccio aperto sia utilizzando risorse educative aperte che a volte utilizzando risorse educative che aperte non sono. Quindi come riusciamo ad allargare i confini del nostro approccio open anche attraverso le pratiche. Ribadirei subito prima ancora di iniziare anche oggi che l'approccio open che promuoviamo in questa serie di webinar è il più aperto e inclusivo possibile. Credo di averlo già citato ma se non l'ho fatto lo faccio adesso e nel caso perdonatemi per la ripetizione. Consiglierei a tutti di dare un'occhiata a una pubblicazione che è stata fatta se non ricordo male nel 2019 ma dopo aggiungerò una slide alla fine su questo magari che si chiama open at the margins e è una pubblicazione che ragiona proprio sull'approccio open nel modo più inclusivo possibile anche perché più riusciamo essere inclusivi più si sentono parte attiva di questo percorso di questo approccio tutte le persone che si avvicinano anche all'open facendo loro primi passi e quindi con qualche incertezza con qualche indecisione con qualche errore con qualche scelta che magari all'inizio un po più prudente poi può diventare un pochino più coraggiosa. Tutte queste sono pratiche open che nell'approccio che promuoviamo noi sono assolutamente compatibili. Gli obiettivi delle pratiche open sono sicuramente come anche per le open educational resources quello di migliorare l'accesso al sapere e anche il processo di apprendimento e in più si aggiunge proprio l'aspetto del contribuire alla realizzazione del potenziale di chi apprende. Chi apprende qualunque età abbia può contribuire in modo partecipativo, in modo attivo non solo alla creazione delle risorse open ma anche all'adattamento delle pratiche ai singoli contesti e adesso vediamo attraverso gli esempi. Gli esempi spesso parlano molto più della teoria. Partiamo da un esempio quindi. Pensavo di parlarvene più tardi di questo di questo open textbook poi rivedendo le slide fino all'ultimo momento come sempre mi accade ho pensato che anche in questo caso gli esempi che vengono da chi pratica valgono molto più di tante parole. Questo esempio che a me aveva appassionato tantissimo perché nasce da una collaborazione tra due gruppi di studenti in due università diverse in Canada e poi ho coinvolto anche università negli Stati Uniti, i docenti, la guida di alcuni professionisti che hanno competenze tecniche molto dettagliate ed è in una certa forma un derivative quindi una risorsa educativa aperta che deriva da una risorsa educativa precedente. Vediamo un attimo cosa è successo. Intanto ha vinto un premio mondiale lo scorso anno come miglior, ha vinto l'Open Education Award of Excellence che è il riconoscimento a livello mondiale più noto e più anche diciamo ambito in ambito Open Education come risorsa educativa aperta dell'anno e lo vedete qui anche nella descrizione. Questa che quella che vedete qui è una screen capture e avete tutti i riferimenti bibliografici per andare al libro in sé. Il libro è una parola grossa, è un open textbook quindi non è solo un libro, è un libro che ha all'interno dei testi, è un libro digitale che ha all'interno dei testi, delle immagini, degli audio e dei video. Creato in modalità collaborativa e lo vedete anche dalla definizione, co-progettato dagli studenti, dai docenti e dallo staff della Trent University, della Brock University, del Seneca College, University of Windsor, MC Master University, Cambrian College e Nipissing University. Quindi è una collaborazione veramente estesa. Cos'è successo qui? C'era un approccio metodologico che era stato creato alla Trent University per supportare i docenti, gli educators ed era legato proprio alla figura dell'educatore che contribuiva facilitandolo al sviluppo del potenziale dei partecipanti ai corsi, che è molto diverso dal dire insegnava. Partendo da questo, vi faccio breve la storia perché poi preferisco che voi andiate a leggervi i materiali direttamente se ne avete voglia, sono però in inglese per cui un'introduzione mi sembra doverosa. Partendo da questo, i docenti hanno pensato di coinvolgere gli studenti per ragionare all'opposto. Che cosa fa sentire uno studente libero di partecipare alla realizzazione del proprio potenziale e di avere un'influenza diretta sul proprio percorso di apprendimento? Chi meglio degli studenti può dare una mano a progettare un percorso del genere? E quindi sono stati coinvolti gli studenti per fare un lavoro più interessante, più completo, più integrato e più inclusivo. Sono stati invitati anche studenti di altre università, non solo di quella in cui il progetto è nato. Insieme agli studenti sono state fatte una serie di attività per capire quali erano le loro motivazioni, che approccio avrebbero voluto avere, tutto prima ancora di iniziare a progettare l'open textbook. Quali erano soprattutto gli ostacoli maggiori che gli studenti incontravano e incontrano sulla propria strada per avere un percorso di apprendimento efficace. Efficace vuol dire anche motivante, piacevole, interessante, efficace in termini di superamento chiaramente delle fasi di assessment dove sono previste e su questo oggi lavoriamo parecchio. E il lavoro che è stato fatto è stato proprio quello di seguire il processo che era stato fatto a Ontario per lavorare sui, erano chiamati gli empowered educators, cioè come se avessero diciamo dei superpoteri per essere più bravi in realtà ad ascoltare i bisogni degli studenti e a usare le tecnologie a supporto. Ecco, in questo caso gli studenti hanno fatto un lavoro meraviglioso. Non hanno solo progettato dei contenuti sintetici nello stile che piace agli studenti, ma li hanno resi belli, hanno creato dei badge da associare a chiunque finiva ogni singolo capitolo, hanno creato dei piccoli cartoni animati in grafica, hanno inventato le musiche, hanno prodiviso tutte queste risorse con licenze open. Ecco, vi invito a dare un'occhiata a questo lavoro direttamente. Questo, il risultato del lavoro fatto è la risorsa open che si chiama Liberated Learners ed è un open textbook condiviso con licenza CC BY NC, quindi permette di essere riutilizzato a scopi non commerciali e quindi potete riusarlo anche voi. Potreste anche considerare di usarlo con i vostri studenti e tradurne delle parti in italiano, adattare i cartoni animati come volete, cambiare i badge, aggiungere dei badge. Questo è il tipo di attività che questa risorsa educativa aperta offre a disposizione di chiunque la voglia riusare. Il lavoro di cui vi ho parlato io fino adesso però, il lavoro di progettazione, di coinvolgimento degli studenti, di coinvolgimento di altre università, di coordinamento di tutto ciò, è la pratica che sta dietro alla creazione della risorsa in sé. La risorsa è un percorso finito, la pratica è stata raccontata, anch'essa in modalità open, attraverso una serie di altre risorse che hanno l'obiettivo proprio di dire come siamo arrivati a questo risultato finale, che passi abbiamo fatto, perché, a beneficio di chi e quindi cosa vogliamo fare d'ora in poi. Un approccio che a me piace moltissimo, basato su un modello molto pratico che potrebbe interessare anche altri, che si costruisce intorno a tre domande di base. What, so what, now what? Molto semplice e molto efficace. Trovate la descrizione di questa pratica, partendo dall'open textbook, in moltissimi luoghi diversi. Ci sono dei blog post, ci sono dei podcast, ci sono delle interviste e ci sono anche delle partecipazioni e dei convegni, tutte condivise in modalità open, anche queste, che raccontano proprio la pratica dietro la realizzazione della risorsa. Perché quindi le open education practice? Perché ha senso parlare di open education practice? Riconoscerete qui nella grafica, e Bianca mi perdonerà se non è bella come quella che mi ha aiutato a creare lei, che c'è una parte che riguarda le pratiche educative e che può essere svolta e incentivata a prescindere dall'essere open, e che vale un po' per tutti, che si impara attraverso ciò che si fa. Non solo attraverso ciò che si fa, ma si impara anche attraverso ciò che si fa. Un altro dato di fatto, che riguarda il mondo della creazione delle opere, è che i diritti riservati, proprio il termine riservati già di per sé lo dice, limitano le opportunità di giocare con i contenuti. E il termine giocare non è usato a caso, perché giocare implica tantissimi aspetti anche motivazionali, di cui voi siete più esperti di me in quanto docenti, in quanto praticanti di attività didattiche. Di conseguenza i diritti riservati restringono la rosa di attività che ci permettono di imparare, anche come docenti. Se noi abbiamo a che fare con una risorsa che ha tutti i diritti riservati, siamo limitati anche noi nel modo in cui vogliamo sperimentarci come creatori di opportunità di apprendimento. Se noi abbiamo le licenze aperte, sulle risorse anche, queste licenze ci consentono di rimuovere alcune, se sono limitanti o tutte, se sono molto aperte, nella nostra scala di accesso alle licenze che vi ricorderete è abbastanza chiaro, ci consentono appunto di rimuovere alcune o tutte le restrizioni, quindi permettono anche di imparare in nuovi modi. Questa è la parte open sulla quale lavoriamo oggi. Come le definiamo queste open education practice, queste pratiche open? La definizione arriva da Catherine Cronin che nel 2017 ha terminato la sua tesi di dottorato di ricerca in Irlanda, dove vive attualmente, lei è originaria degli Stati Uniti, è un ingegnere che si è poi laureata anche in scienze sociali, se non ricordo male, con una tesi sul ruolo delle donne e che da tantissimi anni si occupa sia di open education che di open education practice, che sono state l'oggetto della sua tesi di dottorato, e di social justice, quindi di inclusione sociale, di spazi per promuovere e rispettare le diversità e di avere degli approcci che fossero il più inclusivi possibile. Come le definisce le open education practice? Sono pratiche collaborative, la traduzione è in INA chiaramente, che includono la creazione, l'uso e il riuso di OER, così come pratiche pedagogiche che impiegano tecnologie partecipative e social network per interagire, praticare peer learning, creare conoscenza e rinforzare il ruolo attivo delle persone che partecipano ad eventi formativi. Questa definizione, avete visto già anche nei precedenti incontri che nelle slide che utilizziamo ci sono pochissime definizioni, alcune però, come in questo caso, sono così ricche e ogni parola è così importante che preferisco l'abbiate a disposizione anche nelle slide che poi vi potete scaricare e che possiate anche in un secondo momento, in un terzo, in un centesimo momento tornare a questa definizione e ragionarci in funzione di quello che state preparando o progettando nel momento presente. A me capita di continuo di tornare a questa definizione e anche nel preparare questa presentazione per questa serie di incontri ci sono tornata e mi ha influenzato nell'andare a cercare qualche pratica in più o a controllare qualche aspetto più nascosto di quelle che sono le pratiche condivise che vediamo insieme dopo. Ed è un po' una prassi per me tornare a questa definizione e di volta in volta, in base al contesto, scegliere quali sono le parole chiave che più influenzano poi la scelta dei contenuti. Lo vedrete attraverso questa presentazione, ma è veramente un invito a mettervi alla prova in questa direzione in futuro. Vediamo alcuni concetti chiave che riguardano le Open Education Practice. Riconoscete in questa grafica alcune slide che abbiamo usato anche le immagini perlomeno, che c'erano in alcune slide che abbiamo usato negli incontri precedenti. C'era il docente che si mette diciamo in questo cerchio inclusivo appunto in cui già dall'immagine tutte le persone sono un po' alla pari. Il docente ha in questo caso uno schermo più grande diciamo quello al centro in basso, potrebbe essere anche la lavagna, non ci importa. E il resto raffigura gli studenti. È un'immagine, potevano esserci quattro docenti, due studenti in più, un'altra immagine identica, duplicata, di un gruppo di studenti in un'altra classe a questa connessa in remoto. Immaginate di nuovo Liberated Learners, il lavoro che hanno fatto loro. Poteva esserci anche un'azienda, perché no, che magari ha voglia di sperimentare con un gruppo di studenti con tutte le normative e il rispetto della privacy ben strutturato dietro le quinte, chiaramente, mettendo a disposizione il proprio expertise, le proprie tecnologie per favorire uno sguardo anche più pratico sulle attività didattiche dei gruppi di studenti coinvolti. Però i punti fondanti sono che c'è una condivisione di saperi diversi e per sapere diversi si intende che anche gli studenti sono portatori di un sapere che non appartiene al docente e quindi il canale di comunicazione, come abbiamo già detto, è bionivoco e tutti quelli che sono i saperi degli studenti potrebbero trovare, magari non in modo costante, se non è fattibile a livello pratico, le complessità dei piani di studio sono chiare anche a noi, però in alcune occasioni o in alcuni momenti privilegiati potrebbero trovare un loro spazio per essere valorizzate e questo risulta essere estremamente motivante per gli studenti. Un altro concetto chiave è la co-creazione dei contenuti, dei percorsi e degli esercizi. Ci tengo molto a sottolineare gli esercizi perché in tutti i nostri incontri stiamo sottolineando l'importanza della progettazione didattica. Se stiamo parlando di risorse educative aperte parliamo di risorse che hanno degli obiettivi di apprendimento, che si vuole che i partecipanti al percorso di apprendimento conquistino entro la fine del percorso, un percorso che comprende una fase di valutazione per verificare in una maniera che può essere estremamente varia e che è a vostra scelta in alcuni casi e in altri non è a vostra scelta, per cui anche questo va negoziato. Appunto in una fase di assessment, di valutazione che consente di verificare se gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e tutti i contenuti che aiutano i partecipanti ad arrivare dalla dichiarazione degli obiettivi che magari avete fatto insieme e che avete in qualche modo siglato in un patto d'aula virtuale o fisica, questo non importa, in cui li avete condivisi esplicitamente all'inizio e i partecipanti al corso hanno detto ci siamo, ci sono tutti chiari ed è esattamente quello che vogliamo anche noi arrivare a sapere alla fine del percorso. Ecco, tutti i materiali didattici e le attività nel mezzo e le attività sotto forma di esercizi e quindi anche tutti i supporti formativi che potete dare, non solo i supporti sommativi finali in termini di valutazione, fanno parte di ciò che potreste voler creare insieme ai vostri studenti. Potreste valutare anche solo di rivedere insieme ai vostri studenti. Potreste decidere di lasciare in mano a loro come attività di progettazione e poi ridargli in mano a fine corso dicendo, ok, adesso che avete finito il percorso ricreereste gli stessi esercizi nella stessa forma o li ristrutturereste? Come se voi doveste dare una mano agli studenti del prossimo anno, come vorreste che loro si mettessero alla prova per aiutarli al meglio a raggiungere questi obiettivi? Pensate a questo ispatto. Un altro aspetto fondamentale è l'approccio che deve essere non giudicante e inclusivo. Non giudicante perché può essere che sull'argomento specifico del percorso gli studenti ne sappiano meno di voi. Avranno altre competenze, avranno altre conoscenze che possono tornare utili alla resa migliore del percorso formativo ma magari non hanno il vostro livello di expertise, di approfondimento su una conoscenza. Ed è lì che è bene che si sentano non giudicati perché è solo allora che riusciranno a essere molto aperti e molto propositivi anche proponendo cose magari un po' a volte fuori scala, a volte fin troppo creative, a volte non fattibili per problemi pratici o per problemi legali. Starà poi a voi ricondurre le proposte. Però un contesto, un ambiente non giudicante è un ambiente molto fertile per permettere agli studenti di aprirsi e di condividere le proprie proposte. E poi inclusivo. Inclusivo vuol dire tantissime cose. Oggi vedremo una serie di esempi di questo e mi piace invitarvi da subito a tenere presente questa parola per tutto il percorso perché nelle pratiche si nascondono spesso tantissime occasioni di inclusività che possono trasformarsi nell'opposto e siamo sempre in questa dinamica tra essere aperti in modo ampio o promuovere l'apertura a parole e poi risultare non chiusi in realtà nella pratica. È importante avere l'inclusività in mente come un obiettivo intenzionale da avere per tutto il percorso e fare i conti laddove questo non sia fattibile con la consapevolezza che quello spazio è uno spazio di sfida sul quale lavorare nel futuro o in altri contesti o da tenere semplicemente presente tutte le volte in cui invece diventerà uno spazio negoziabile. Se è uno spazio non negoziabile come può accadere in tantissimi contesti anche istituzionali anche da noi ci sono degli spazi che non sono negoziabili bisogna prima di tutto cercare delle alternative e tenere in mente che nelle spinte diciamo propositive e innovative per il futuro l'inclusività deve essere uno degli obiettivi da perseguire intenzionalmente. Un altro concetto chiave ma questo l'abbiamo già detto è che il docente si comporta come consulente esperto circondato da altre figure di esperti esperti di altro ma gli studenti sono esperti sicuramente sono più esperti dei loro docenti in aspetti che i docenti non praticano che sia uno sport che sia un social media che sia un videogioco che sia un'esperienza legata alla loro età al periodo in cui sono nati e agli occhi con i quali guardano al mondo rispetto ai loro docenti quindi tenetele presente come esperti quando volete mettere in atto una pratica aperta e poi e questo arriva in fondo ma è perché ce lo dobbiamo portare dietro sempre per tutto il resto del percorso gli studenti sono protagonisti attivi della propria crescita sia in gruppo che singolarmente e se guardate adesso un attimo con distacco a questa slide provate a rileggere questi cinque punti e pensateli anche senza parlare di open se voi mettete in pratica modalità didattiche che sono attive e che richiedono una partecipazione degli studenti e già siete abituati a coinvolgerli non avete mai usato una risorsa open consapevolmente non avete mai condiviso la pratica che mettete in atto come pratica open consapevolmente se fate tutte queste cose state già facendo un percorso che è assolutamente compatibile con una open education practice ecco detto questo vediamo insieme poi come rendere open anche la pratica allora adesso io vi faccio una serie di esempi di pratiche e pedagogie open sono tutti esempi molto concreti alcuni sono tratti da un modulo di un percorso che è stato condiviso dal National Forum in Irlanda e sono tutte pratiche che conosco bene perché ho la fortuna di averle viste svilupparsi altre invece sono aggiunte da me perché mi sono sembrate molto rilevanti non le guardiamo tutte ma ve le lascio tutte nelle slide avete un link per ciascuna possono esserci dei corsi open connessi tra loro pensate alla pratica open che vi ho raccontato con Liberated Learners che qui non avevo ancora citato ve l'ho messa prima proprio per aiutarvi a inquadrare un po' la giornata ma ci sono corsi che permettono agli studenti e ai docenti di connettersi con studenti e docenti di altri corsi non solo nella propria istituzione ma anche in altre istituzioni o in altre nazioni o includendo studenti che su base volontaria o su invito degli studenti della vostra classe o della classe di cui stiamo parlando arrivano da altre parti o studenti che hanno fatto degli scambi internazionali poi sono tornati nel proprio paese d'origine e da lì hanno coinvolto la propria classe tutte attività che possono coinvolgere anche studenti che non fanno nemmeno parte addirittura di percorsi formali di apprendimento ma che hanno voglia di apprendere che sono i benvenuti a far parte di un gruppo di studenti vediamo, vi faccio vedere per esempio questo Equity Unbound dovreste poter continuare a vedere la condivisione di schermo senza problemi adesso c'è un'immagine qui che non si carica ma come vedete qui sotto c'è un percorso questo è un percorso collaborativo che nasce promosso da rivedete qui il nome di Catherine Cronin che vi ho citato prima ma c'è anche Mahabali c'è Mia Zamora tutte persone che da anni lavorano per far sì che chi abita in parti del mondo che non sono solitamente diciamo favorite nell'accesso a percorsi di apprendimento da un certo livello di costo in su possano partecipare in modo collaborativo a una serie di attività open che sono state progettate per essere il più inclusive possibile ecco e qui vi invito a dare un'occhiata perché ci sono anche tutti gli archivi sulle attività precedenti delle attività che sono state create che possono essere tutte riutilizzate in modalità open attività che permettono una collaborazione iniziale che permettono di cominciare a far conoscere i partecipanti tra loro che danno una mano a comprendere qual è lo stile che si vuole dare al corso che di volta in volta può essere diverso Liberating Structures è un'altra risorsa open che vi invito ad esplorare magari vi aggiungo il link direttamente anche a questo questo non avevo pensato ma vedendolo qua mi viene voglia di aggiungervelo è una serie di risorse di proposte di attività didattiche rilasciate singolarmente tutte con licenza open che potete adattare oltre che tradurle quindi adattarle alla vostra utenza che permettono di lavorare in modo creativo e coinvolgente e molto attivo e interattivo con gli studenti sia a livello creativo che a livello di riorganizzazione del sapere che riordinamento dei saperi sintesi, analisi tantissimi obiettivi diversi e ciascuna attività ha una serie di descrittori diciamo dei metadati che aiutano a scegliere se l'attività è legata un lavoro uno a uno un lavoro in coppie un lavoro in piccoli gruppi grandi gruppi gruppi in presenza gruppi a distanza è meraviglioso tutto rilasciato con licenze open insomma è una risorsa che racconta di esperienze didattiche vediamo se o si vede direttamente da qua no, perché questo probabilmente è già un riuso di liberating structure esatto questo è un riuso di liberating structure che è stato fatto qui dentro ma poi io vi aggiungo il link anche un altro aspetto che si può considerare o sono le discussioni le discussioni di proprietà di Musk adesso pressoché l'intera comunità del mondo open education si sta spostando la maggior parte si è già spostata c'è chi come me continua ad avere un piede in due scarpe ma la maggior parte delle discussioni adesso avviene su Mastodon che è diciamo un software che è simile a Twitter però basato sulla comunità fa parte degli strumenti del Federated Universe che viene chiamato Fediverse e se siete interessati magari possiamo approfondire anche questo in futuro però la modalità delle discussioni che è avvenuta via Twitter rimane importante come discussione open che è avvenuta per anni con dei messaggi brevi cui seguivano sotto forma di messaggio in non so iniziava il primo messaggio ed era 1 di 9 il secondo messaggio dello stesso autore era 2 di 9 3 di 9 fino a 9 di 9 e a ciascuno di questi messaggi chiaramente di questi tweet altri esperti potevano rispondere con approfondimenti su quello specifico argomento del singolo tweet ecco su queste discussioni si sono create collaborazioni a livello mondiale meravigliose e evoluzioni di analisi di contenuti open e di approcci pedagogici open che poi sono diventate parte della letteratura quindi è stato veramente un bello assistere a quello che è avvenuto e che adesso continuerà altrove senza problemi e che va avanti invece in tantissimi blog è importante sapere questa cosa perché immaginatevi per contro il caos del cercare poi di risalire a dove era quella discussione che tanto mi aveva appassionato dove qualcuno mi aveva dato delle indicazioni che avevo trovato così efficaci e però ritrovarla in twitter se non avevo salvato il tweet da qualche parte o il link al tweet da qualche parte idem per i blog i blog sono tantissimi e tantissime persone del mondo open si dedicano a condividere i propri pensieri e le proprie evoluzioni quando non sono ancora totalmente formalizzate attraverso i blog perché lo fanno proprio perché vogliono che questa pratica incentivi il feedback allora di feedback abbiamo già parlato pensando alle risorse open e a come possono essere migliorate è una pratica però chiedere il feedback integrare il feedback e dare voce al feedback di altri riconoscendo da chi è arrivato e la pratica del mondo open è proprio questa prima che venga formalizzata una teoria o uno stadio diciamo che viene considerato sempre uno dei livelli di evoluzione dello stadio di una singola teoria o di una pratica o di un approccio pedagogico appunto la pratica è lo condivido prima sento cosa dicono i colleghi accetto in modo aperto qualunque stimolo arrivi in modo appunto non giudicante anche tra pari anche tra esperti accolgo tutte le critiche così che possa io rimettere in discussione la mia proposta e poi la possa formalizzare quando è pronta per essere a un certo punto presentata in un modo più ufo sempre con gli studenti una delle attività che vengono fatte e adesso poi vi faccio vedere dove viene fatta in una modalità più formale è la la web annotation fatta in modalità collaborativo cioè c'è un testo sul web e gli studenti partecipano a sistematizzare diciamo questo testo vediamo marginal syllabus per esempio aggiungendo le proprie annotazioni aggiungendo le proprie i propri commenti e lavorando vedete questo è per esempio la parte del e qui vedete un esempio di una serie di di attività che sono state fatte anche negli anni precedenti ciascuna legata a un'attività specifica e vi invito caldamente ad andare a dare un'occhiata a come funziona marginal syllabus perché è uno degli esempi di come vengono coinvolti gli studenti nella revisione dei contenuti e come possano essere parte attiva della revisione dei contenuti stessi la stessa cosa vale per annotated syllabus queste attività sono quelle che consentono di fare attività collaborativa di annotazione questa attività collaborativa di annotazione avviene a qualunque livello vi faccio un esempio per la conferenza OE Global mi sembra forse il 2021 sì nel 2021 per la conferenza OE Global che è la Open Education Global è la conferenza mondiale dell'Open Education l'edizione che si è svolta durante il lockdown era focalizzata sulla raccomandazione dell'UNESCO sulle OER e aveva un diciamo un'area di lavoro per ciascuna delle cinque aree d'azione della UNESCO OER Recommendation una delle attività che hanno proposto gli organizzatori era quella di prendere la OER Recommendation come testo e annotarla collaborativamente e questo è quello che è avvenuto per mesi durante le attività che cosa vuol dire annotarla collaborativamente utilizzando un software che si chiama Hypothesis associato al testo della UNESCO OER Recommendation chiunque poteva aggiungere un commento a una singola parola al titolo di un'azione riportare degli esempi di attività che avevano contribuito a rendere quell'azione reale cioè a raggiungere gli obiettivi dell'UNESCO OER Recommendation per quell'azione aggiungere domande critiche aggiungere risposte a quelle domande critiche un lavoro collaborativo a livello globale che ha permesso di poi costruire la discussione della successiva fase della conference quando si è potuto lavorare in presenza intorno anche a questi commenti fatti dalla comunità un'attività interessantissima per chi si occupa del tema quindi vedete che il livello può essere con lo stesso strumento che tra l'altro è open è uno strumento è un software associato a un testo posso lavorare a tantissimi livelli a livello locale nella mia classe senza pubblicare niente solo per fare un'attività didattica che coinvolge molto intensivamente gli studenti anche in modalità non mi mani ad esempio potrebbe venire esempio molto pratico creo gli obiettivi di apprendimento per il mio corso voglio metterli in mano agli studenti e chiedere loro cosa ne pensano o se hanno dei dubbi sulla loro raggiungibilità non li conosco bene magari è il primo anno che lavoro con loro chiedo loro di commentarli lo faccio in modo anonimo magari perché in modo tale che nessuno si senta in imbarazzo ho valutato perché non sanno ancora se sono giudicante o no nel mio approccio e poi a partire dai loro commenti qualunque essi siano faccio una prima attività che ci permette anche di conoscerci in cui ragioniamo insieme sui commenti e quindi prendiamo ogni singolo commento non chiedo mai chi l'ha fatto però chiedo a tutti di dire cosa ne pensano se concordano o meno se dobbiamo ristrutturare gli obiettivi di apprendimento insieme se ho dei vincoli perché magari ho un piano di studi che sono obbligato come docente a seguire e allora in quel caso se ho dei vincoli dico ai miei studenti questi obiettivi dobbiamo comunque raggiungerli perché sono obbligatori non sono negoziabili sul resto invece possiamo negoziare e lo facciamo insieme e questo fa sentire gli studenti subito coinvolti nel ragionare al corso di apprendimento per sé quindi in funzione della loro partecipazione adesso ecco e dopodiché vedete che con lo stesso strumento si può fare invece un lavoro mondiale asincrono in cui chiunque da qualunque postazione in qualunque angolo di mondo può partecipare anche da un cellulare che spesso è più diffuso di un computer desktop o di un portatile con una connessione via cavo anche da un cellulare per rapidamente aggiungere il proprio commento un'altra attività è la co-creazione di open textbook con gli studenti abbiamo visto già un esempio io qui ve ne ho ve ne ho riportati altri uno di questi è molto interessante e magari questo si collega anche un po' ad alcune cose che dirà più tardi Jonathan questo è un esempio che trovate in questo sito che è Open Pedagogy Notebook dopo ve ne parlo anche di questo racconta di questa esperienza di un testo un testo di studio per un corso creato insieme agli studenti e che è un'antologia di letteratura americana ecco date un'occhiata a questi progetti perché sono veramente interessanti se ne avete voglia altri esempi di pratiche la creazione di compiti in modalità OER la creazione di compiti immaginate questa cosa invece di creare io un esercizio chiedo agli studenti di produrre delle risorse open tra l'altro che possano interessare un audience che va oltre i confini del corso del modulo l'hanno fatto per esempio in questo corso Digital Futures for Learning a Edimburgo l'Università di Edimburgo è molto avanti nello sviluppo delle risorse open e nel supporto al movimento open e in questo post il dottor Ross ha condiviso la pratica come è stato fatto e perché con anche gli obiettivi sia di coinvolgere un audience che andasse oltre i tutor e i docenti e gli studenti stessi ma sia anche proprio di creare risorse open che fossero accessibili che badassero anche a diffondere tra gli studenti la cultura delle licenze quindi aiutarli a fare i conti anche con gli aspetti tecnici risorsa anche questa rilasciata con licenza che si si vai e scusate sono andata avanti per errore e sempre come forma di pratica open si può chiedere agli studenti di creare dei contenuti didattici aperti delle OIR come parte del proprio processo in modo tale che le creino e che poi diventino come dire uno strumento e un'attività di confronto tra pari e qui vi farei vedere in Still We Rise che è una questo è un il racconto proprio di un un progetto che è stato fatto per promuovere la storia delle persone di colore in un istituto locale in una comunità locale di una zona rurale è stato promosso dall'università di New York dove fanno tantissime attività che hanno l'obiettivo di promuovere la cultura open anche lì e di coinvolgere in modo inclusivo tutte le minoranze e questo progetto è un progetto in cui sono stati coinvolti gli studenti e hanno lavorato a livelli diversi di feedback per verificare con i propri pari la validità delle risorse che avevano creato la compilazione di voce di wikipedia può essere una pratica open non so chi di voi ha esperienza di questo chi di voi ne ha fatta qui al Politecnico abbiamo un docente Guido Raos che insieme alla collega con cui gestisce un corso per dottorandi è un docente di chimica qui al Politecnico e per più di un anno qui vi ho portato già due esempi ha gestito e vi ho riportato il link come lo usano loro perché non sempre le cose devono avere come vi ho detto altre volte un'immagine perfetta magari o bellissima a volte devono essere usabili e qui e quindi mi interessava lasciarvi anche il titolo così come è stato scelto da loro questo progetto che è stato fatto al Politecnico di Milano nel corso di dottorato con studenti internazionali che si occupano appunto di cultura scientifica e nel caso del docente Guido Raus di chimica ma qui il lavoro è andato anche oltre perché quello che è stato fatto qui è stato fare un progetto insieme a Wikimedia Italia di cultura di di diffusione diciamo di open science anche lo chiamerei perché è stato un progetto voluto fortemente da Guido Raus e Chiara Castiglioni insieme al gruppo di Wikimedia per far sì che gli studenti di dottorato creassero co-creassero e rivedessero voci di Wikipedia su temi specifici di ambito scientifico molto specialistici a volte anche ma che fossero resi accessibili a tutti quindi con un linguaggio più inclusivo e che fossero controllate però allo stesso tempo dal punto di vista scientifico quindi il progetto comprendeva questo capire come funziona Wikipedia capire come diventare dei co-autori su Wikipedia capire come lavorare insieme ad altri studenti per creare una voce di Wikipedia o a scelta o magari anche tutte e due se poi tanti studenti sono appassionati rivedere delle voci esistenti che magari avevano dei punti critici o erano vecchi o avevano bisogno di essere riviste con dei link più aggiornati o rivalidate a fronte di quello che è il progresso scientifico dopodiché il percorso prevedeva che dopo la spiegazione di come funziona Wikipedia e il supporto in aula degli esperti di Wikipedia per affiancare gli studenti mentre loro si occupavano del creare le voci o del rivedere le voci specifiche su temi molto complessi rendendoli anche più accessibili al grande pubblico comprese persone come me che non ne sanno nulla e che sennò avrebbero molta difficoltà leggerle tutto ciò con poi un percorso di revisione fatto da un team di docenti a livello internazionale coinvolti dai docenti politecnico perché validassero i contenuti creati laddove questo è stato possibile la voce veniva creata prima di tutto in inglese in modo tale che la voce fosse poi a disposizione della maggioranza diciamo degli utenti anche per ulteriori localizzazioni e poi nella lingua madre di chi la stava creando per cui gli studenti pakistani che fanno la scuola di dottorato qui al politecnico hanno fatto la voce in inglese e hanno fatto la voce nella loro lingua se c'era con loro in coppia uno studente italiano la voce è stata sviluppata immediatamente subito in tre lingue in parallelo questo lavoro è un lavoro per me meraviglioso che insomma che fanno in tanti questo è un esempio vi ho fatto l'esempio che abbiamo in casa perché mi fa anche piacere dare visibilità a un lavoro che è stato fatto dai docenti del politecnico ma il mondo di wikipedia è pieno di risorse create da studenti co-create da studenti e docenti riviste sempre dalla community che valida con un percorso molto molto attento l'attendibilità delle risorse e chiunque poi se trova una risorsa che è invecchiata o che non è più attendibile o un link che non funziona lo può segnalare e poi la comunità di wikipedia si occupa di migliorarla ecco questo è un esempio sicuramente di pratica open wikipedia questo invece che è l'altra risorsa che vi dicevo prima adesso vi ho riportato il link di nuovo qui all'open pedagogy notebook perché questo mi interessa anche proprio come meta livello cioè finora abbiamo parlato di una serie di casi singoli una pratica open che viene condivisa con licenza per essere adattabile da altri anche come pratica in sé quindi non ho solo le risorse educative i materiali didattici ho il racconto di come le risorse educative sono state create o come sono state e o come sono state utilizzate e quindi proprio la progettazione didattica questo portale che vi ho già fatto vedere che poi troverete linkato nelle slide open pedagogy notebook è un portale che nasce proprio per condividere i racconti i racconti su approcci open e pedagogie open che sono condivisi in questo in questo portale a disposizione di tutti perché tutti le possano riusare adattandole è una risorsa meravigliosa adesso vediamo alcuni passaggi entriamo ancora di nuovo nella pratica e torniamo indietro anche collegandoci a quelle che abbiamo visto in passato nei precedenti incontri come risorse cioè repository in questo caso FET è un repository di simulazioni interattive di fisica creato dall'università di Colorado che badate bene non è dedicato solo agli studenti universitari ma a qualunque ordine grado entriamo un attimo per vedere perché ne parliamo come vedete dal titolo per il passaggio dalle OIR alle OEP allora se io entro in FET e questo è il sito di FET guardate qui ho un menu enorme qualcuno di voi magari è già andato a vederlo però guardate il menu teaching spero si veda in modo abbastanza sufficientemente grande anche per voi perché altrimenti posso tentare di ingrandire un po' ma si vede bene nel caso ditemi o nel caso apritevi il link dalla chat grazie a Bianca che mi aiuta sempre in questo allora guardate qui se io entro nell'area teaching ho la spiegazione da subito di come FET possa essere utilizzato da un professore di chimica in un'università però io ho nel menu teaching e lo vedete anche qua un menu che mi dice quali suggerimenti mi danno già loro su come utilizzare FET per la didattica guardate quante possibilità mi offre già per entrare nel database di taglio voglio sto pensando di pianificare di utilizzarlo oppure voglio vedere come altri lo hanno utilizzato nelle proprie lezioni oppure voglio usare clicker in classe quindi perché magari li ho in dotazione cioè quei piccoli device che aiutano a rispondere in tempo reale chiedendo un feedback all'aula oppure insegno nelle classi dei ragazzi fino ai K-12 fino ai 12 anni quindi pensate ai nostri ragazzi alle elementari e alle medie quindi nasce in università ma l'esplosione dell'uso di queste simulazioni è andato parecchio oltre oltre l'università perché ciascuna risorsa può essere approfondita fino al livello universitario con certi accompagnamenti legati alla pratica nella quale viene riusata la simulazione oppure usata a un livello un po' più diciamo alto un po' più semplificato per ragazzi che hanno un livello di competenza al momento un po' più basso e poi c'è una sezione anche sul remote learning with FET cioè come lavorare a distanza come apprendere a distanza con FET quest'area si è arricchita in maniera esponenziale come tante altre delle risorse open che abbiamo condiviso nei precedenti incontri durante il lockdown perché è stato un impegno fortissimo dell'università del Colorado ma anche di tutta la comunità open che già usava le risorse nel aumentare 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 i contenuti del portale proponendo usi delle simulazioni anche in remoto vediamo un attimo che cosa guardate questo schema che è ultra semplice stiamo parlando di fisici notoriamente i fisici si presentano dicendo che loro fanno cose brutte cui danno dei brutti nomi non è sempre così perché a volte invece io li trovo molto divertenti però guardate qui è un è un menu essenziale per consultare il loro database e qui c'è l'elenco delle simulazioni che sono disponibili e vi invito a controllare fate conto anche tra l'altro del fatto che tantissime di queste simulazioni erano prima presenti in adesso non viene il nome di come si chiamava quel software che flash ecco erano state create in flash e questo fino a prima del lockdown poi flash è andato in disuso hanno ripreso la 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 simulazione l'hanno ricreata in html5 che è l'html che consente la creazione di simulazioni di contenuti accessibili quindi supporta anche l'utilizzo dei device che permettono l'accessibilità a chi ha qualunque tipo di problema flash non c'è più hanno ripulito tutto e guardate che c'erano altre erano fatte con un altro adesso non mi viene neanche il nome perdonatemi però voi andate a riguardare andate a guardarle sappiate che se non avete voi la competenza per laddove una risorsa di queste presentate non sia totalmente accessibile a volte è presente in due formati guardate questo link o probability è disponibile in due formati in modo tale da supportare utenze diverse dove necessario se non c'è ancora in html5 qualcuno del team dietro vostra segnalazione se ne farà carico contattici perché lo fanno ci sono poi tipi di risorse che vengono dunque elencate con non so attività da fare in remoto attività laboratoriali attività che richiedono un homework vedete che passando sul menu compare l'etichetta che dice di cosa si tratta domande in questo caso multiple choice quindi risposta multipla strumenti di discussione dimostrazioni guide e anche altre attività e poi c'è l'alignment che vi invito a esplorare direttamente perché non abbiamo il tempo di esplorare tutto oggi dopodiché ci sono modi per filtrare in base alla materia come vedete ma c'è anche un modo di filtrare che non c'è in tutti i percorsi di tutti i repository e qui secondo me è preziosissimo in funzione del livello scolastico ora come vedete è organizzato è nato negli Stati Uniti quindi è organizzato in base al sistema scolastico degli Stati Uniti però esistono in rete diverse risorse che vi permettono di comparare i livelli ora non è quindi chiave in mano ci stiamo dicendo che c'è un livello di caos anche qui come utenti italiani che hanno bisogno di riusare sicuramente dovete poi controllare se la risorsa che trovate è coerente con i vostri obiettivi didattici e con il livello che volete che i vostri studenti raggiungano per ogni area però le potete adattare però con la pratica potete essere voi ad accompagnarne l'utilizzo e soprattutto guardate qua guardate quante lingue sono già disponibili quindi se voi avete bisogno di risorse solo in italiano perché state lavorando con studenti con i quali non volete lavorare come obiettivo trasversale anche sulla lingua che soprattutto nell'ambito scientifico ha un valore perché poi è uno strumento di accesso alla letteratura scientifica potete filtrare io ho fatto solo un browser come unico filtro italiano e vedete quante di queste risorse sono disponibili in italiano e guarda caso sono state create da persone madrelingua che hanno deciso poi di ricondividere perché ricondividere perché voi potete condividere la vostra attività vi loggate al sistema ed è questo è fatto perché mentre come utenti avete visto che a me non ha chiesto nulla finora io ho una mia login e una mia password perfette però non mi ha chiesto nulla finora sono risorse effettivamente aperte e io posso aprire qualunque cosa vedendo la descrizione scaricando tutte le risorse con uno zip è meraviglioso guardando come è descritta con tutti i metadati la risorsa quindi quanto tempo richiede di attività se include anche le risposte nel caso sia un'esercitazione e quali ambiti specifici riguarda adesso ne ho aperta uno in italiano volutamente ma tenete conto che in quelle in altre lingue trovate anche le risorse gli esercizi e le risposte quindi immaginate il potenziale di riuso che potete fare di un contenuto di questo tipo nella vostra progettazione didattica dicevo fin qui nessuna login richiesta se voi volete caricare un contenuto invece giustamente vi viene richiesto di crearvi un profilo primo perché poi se caricate una risorsa diciamo non opportuna il sistema può tutelare gli utenti compresi gli studenti che accedono alle risorse perché altrimenti io carico una risorsa inopportuna con un nome perfettamente coerente con uno dei contenuti qui presenti e se nessuno controlla il problema è che poi la risorsa può essere e metto che è disponibile anche per studenti di qualunque ordine grado chiaramente vedete già tutti i problemi quindi questo rende importante il controllo dei contenuti dietro le quinte e poi perché io posso ricevere un feedback oppure altri docenti mi possono contattare queste sono le parti più ricche delle opportunità per cocreare insieme una risorsa o dirmi guarda l'ho riusata in questo modo ci è venuta quest'idea e nella nostra classe l'abbiamo creata così ecco esplorate FET anche se non vi occupate di fisica io non mi occupo di fisica né di chimica né di matematica però esplorare FET per me è stata un'esperienza ed è un'esperienza ricchissima perché le idee didattiche le pratiche didattiche che vengono condivise in FET sono poi adattabili in sé ad altri contenuti quindi è una fucina di idee pressoché infinita andiamo avanti però se andiamo avanti io riapro FET ho sbagliato qualcosa e l'ho riaperto un'altra volta se non scusatemi ecco qua adesso andiamo avanti ok adesso vi faccio vedere un altro esempio perché vi faccio vedere un altro esempio di fisica andiamo su questo esempio di fisica dove le risorse sono non scendiamo in dettaglio anche qui sono risorse anche qui condivise con licenza open questo sito è molto meno è organizzato in modo più visivo come vedete ci sono risorse molto valide anche qui l'approccio è molto focalizzato sul contenuto e quindi va esplorato diciamo in funzione di quello c'è un modo per ricercare nel sito però non c'è un database da consultare come nell'altro caso avete però un indice dei post che può essere sempre utile vi apro questo esempio che vi invito a esplorare perché è molto interessante in termini di contenuto come dire specifico ma ve lo apro perché mi interessa mostrarvi che qui in fondo alla pagina c'è all rights reserved e ve lo mostro perché è importante che voi siate insistenti nel cercare le licenze perché in questo caso la trovate qua allora se io vado nei terms of use di questo sito nei terms of use trovate una dicitura che dice tutte le informazioni su questo sito immagini diagrammi istruzioni software e documentazioni possono essere utilizzate gratuitamente senza alcuna restrizione anche con cambiamenti e anche per obiettivi commerciali tutta la documentazione e i contenuti del sito sono disponibili in modalità open per obiettivi educativi con la licenza creative commons attribution 4.0 international che è a tutti gli effetti CC BY se io faccio click su questa licenza vado in effetti a CC BY quindi questo link è corretto ma l'icona come vedete è CC BY ora io scrivo al sito per dire questa cosa e i gestori del sito sceglieranno se correggere o no vedete però questo ve lo faccio vedere come esempio del tutto rispettoso per chi ha comunque espresso l'opinione nel sito la volontà scusatemi di condividere tutti i contenuti con licenza CC BY quindi a tutti gli effetti i termini di utilizzo ci consentono di riusare tutto c'è stato questo errore che però se voi vi fermate a guardarlo senza leggere a volte può essere la vostra limitazione prioritaria perché l'immagine come abbiamo detto dal primo incontro è quella che più facilmente ci aiuta a risalire le licenze e in questo caso questa immagine pur avendo il link corretto a CC BY 4.0 è l'immagine di CC BY in CSA quindi siate perseveranti nel cercare quando una risorsa vi serve e anche in questo caso appunto poi vi è già detto che la potete utilizzare se no scrivete e come vi ho detto le altre volte chiedete di poter riusare una risorsa e magari per obiettivi educativi viene dato il permesso ufficiale un altro esempio che vi riporto qui è Feaslet che non vediamo anche qui nel dettaglio dei contenuti ma lo vediamo di nuovo scusatemi perché qui c'è un punto di domanda da OER a OEP ma questa è un OER allora le risorse di Feaslet che sono di nuovo risorse in ambito fisico anche qui vedete che c'è la possibilità di scaricarsi l'intero ebook oppure che tutti i contenuti dal sito vedete qui in basso sono condivisi con licenza CCBuy e CND quindi di per sé non sono risorse open però tutto quello che io posso fare riusando queste risorse e quindi tutto quello che io posso fare dicendo ok qui ho trovato esattamente non l'ho trovato in Feaslet scusate non l'ho trovato in Physics Open Lab e non l'ho trovato in FET qui ho trovato la simulazione perfetta per il mio obiettivo didattico non devo modificare niente perfetto perché qui non mi viene dato il permesso di modificare questa risorsa è non derivative posso però condividerla con i miei studenti e spiegare io qual è l'attività che loro vogliano che io voglio che loro facciano con questa risorsa sì lo posso fare perché è una risorsa che io posso ricondividere lasciandola così com'è e quindi integrarla in quella che poi chiamerei una pratica open quindi qui in realtà nel titolo c'è un punto di domanda ma questa non è di per sé una risorsa educativa aperta bisogna controllare perché questa è non derivative non è aperta in sé ma io posso riusarla per una una pratica open sì perché l'autore con la licenza si si buy in CND mi sta dicendo non la modifichi ma la puoi riusare così com'è e quindi la posso integrare in un percorso che io rendo open attraverso le attività che promuovo io ok andiamo avanti un'altra invece un altro esempio di risorse che potete trovare e non sto ad aprirlo adesso perché la logica è la stessa è questo portale di simulazioni anche qui in ambito ingegneristico quindi su contenuti molto tecnici però mi interessava condividervi anche questo perché sono esempi dove magari non c'è la cura estetica ma c'è una cura funzionale molto alta è una cura molto alta delle licenze in questo caso addirittura avete delle simulazioni condivise con licenza CC BY quindi potete adattarle potete riusarle a scopo di lucro e potete vedere anche qui c'è un menu classroom guide che aiuta a capire come riusarle in aula e anche come è stato svolto il processo di creazione quindi questo è il sito giusto per darvi una preview e potete poi andare a vedervi l'attività di sviluppo e degli esempi specifici di come sono state utilizzate sono tutte risorse che sono state validate da persone molto competenti a livello scientifico quindi di nuovo questa cosa continuo a sbagliare adesso vediamo torniamo all'esempio che allora se avete domande intanto perché oggi sono un po' un fiume in piena voglio condividervi tanti esempi c'è una domanda forse questa è una bellissima domanda grazie per averla fatta perché tocca uno dei punti chiave cui abbiamo già fatto cenno nelle versioni precedenti ma che è sempre bene ricordare ora io condivido le slide di questo percorso e il video di questo percorso poi siccome li stiamo condividendo con licenza CC BY voi siete libri di scaricarli e riusarli a vostro piacimento perché se la licenza è CC BY vi sto dando tantissimi permessi e con il mio Jonathan oggi che ricondivide anche lui allo stesso modo poi dopo domani noi decidiamo di rimuovere sia la playlist dal sito di YouTube che la pubblicazione dei contenuti da Zenodo possiamo farla in quanto autori sì ma le licenze sono permanenti quindi se voi vi siete scaricati quando noi abbiamo dato il permesso le risorse con la licenza che era stata associata alla risorsa stessa e la licenza per essere valida deve essere presente ed è presente sia nelle slide che nella che nella descrizione del video e nella licenza di rilascio su YouTube voi siete legittimati al riuso io la rimuovo e vi ho legittimato per sempre avendola rilasciata come CC BY quindi spero di aver risposto alla domanda la risposta è semplicissima la licenza continua a essere valida sulla risorsa che era stata rilasciata in modalità open e questo vale per tutte le risorse che vedete qua dunque se casomai fammi sapere se Bianca ok perfetto allora la volta scorsa abbiamo accennato a alcuni esempi di risorse educative open per i sustainable development goals allora io qui vi condivido un open textbook che è stato creato per i college e gli istituti in Canada per lavorare su sustainable development goals e questa risorsa che è stata creata in modo collaborativo è stata rilasciata con licenza Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike ed è possibile esplorarne i contenuti e riusarli in base alla licenza questo è un open textbook quindi vuol dire che voi potete scaricarvelo e adattarlo basta che ricondividiate allo stesso modo e non a scopo di lucro e questa è una prima risorsa qui dentro c'è un toolkit per lavorare su tutti gli SDG da tutti i punti di vista e guardate qui ci sono le finance and administration il livello accademico come coinvolgere gli studenti e la comunità eccetera eccetera questo è un esempio di risorsa tornando alle nostre slide c'è la SDG Academy che è un'academy che è nata proprio per condividere contenuti in alta qualità controllati da esperti per lavorare sulle sui SDG ovviamente tutti col cappello dell'SDG4 per chi di voi ha familiarità con il Sustainable Development Goal il quarto Sustainable Development Goal dice proprio Quality Education for All educazione di qualità per tutti e questo è un po' trasversale perché qualunque materiale didattico quindi che riguarda anche il raggiungimento degli altri Sustainable Development Goal dovrebbe essere rilasciato a livello di qualità alta ed essere accessibile a tutti e qui dentro trovate una serie di contenuti quindi MOOC e OIR MOOC non sempre sono open di questo abbiamo già parlato c'è sempre la criticità della login e della password nel nostro concetto di open nell'approccio che stiamo promuovendo in questa serie di webinar se sono rilasciati con una licenza open e se in qualche modo viene facilitato il riuso quindi dei materiali in essi contenuti allora nel nostro concetto di open sono benvenuti perché esistono dei contesti in cui i MOOC sono il canale privilegiato attraverso il quale un'istituzione o una faculty un dipartimento in essa può condividere con una licenza open le risorse in modo più ampio quindi dal nostro punto di vista sono incluse nelle risorse open se sono solo condivisi come MOOC e quindi solo gratuito solo gratuiti ma non riusabili nel concetto di open allargato possono comunque essere incluse sempre in base all'approccio più inclusivo possibile che usiamo perché è sempre un primo step è comunque una condivisione di conoscenza magari non c'è la possibilità di renderla riusabile o di rilasciarla con una licenza anche non derivative può essere che il contesto non lo consenta l'approccio open in questo caso è rimanere consapevoli continuare a cercare in ogni nuova occasione una possibilità di condividere intenzionalmente con una modalità più open però intanto si fa quello che si può con quello che si ha dove si è le pratiche open hanno delle parole chiave dietro sono sempre contestuali quindi vanno adattate al contesto in cui si opera sono personali perché alla fine chi promuove la pratica open la influenza chiedendo agli altri che coinvolge di condividere un approccio e poi gli altri influenzeranno a cascata con i feedback quello che arriva ma si parte da una scelta personale sono complesse perché lo vedete già non vi sto vendendo come semplice niente mi sembra abbastanza chiaro che ogni risorsa che presentiamo ha dei livelli di complessità che porta con sé però sono tutte pratiche che si aprono al riuso e all'opportunità di essere continuamente rinegoziate con tutti coloro che vengono coinvolti un altro esempio di risorse open disponibili torna a essere dall'università di edimburgo che sul sustainable development goal ha fatto un lavoro meraviglioso condividendo un sacco di risorse anche per livelli scolastici che non sono quelli universitari le trovate ordinate qui e sono tutte risorse riusabili tutte OIAR e anche percorsi open quindi anche OEP e poi c'è la sustainable development guide sulla quale vi invito a dare un'occhiata in approfondimento e valutare voi se e quanto questa guide è open e quanto invece non l'ho perché anche questo è un documento ufficiale e mi piace pensare che abbiate ormai tutti gli strumenti per affrontare questo tema in modo critico e adesso ci gettiamo su En-Rhodes En-Rhodes che voi vedete qui vi faccio vedere direttamente il cruscotto perché è la parte che a me affascina di più io ho una laurea in filosofia e una in scienze dell'educazione niente di tutto ciò è il mio pane quotidiano quindi io diciamo ho fatto il liceo scientifico per cui ecco lì si ferma diciamo se non forse per l'ambito logico e epistemologico ho trattato poi in filosofia ma il mio livello di conoscenza scientifica più approfondito si ferma al livello di un liceo scientifico fatto tra l'altro un po' di anni fa quindi neanche tanto fresco perché questo questo esempio mi piace tantissimo è una risorsa open in sé sì allora la Climate Interactive che è una spin-off dell'MIT Massachusetts Institute of Technology che è quello che vi ho presentato come come l'università che ha inventato la Open Education prima che il termine esistesse nel 2001 piccola nota storica che vi credo di avervi già detto è stata una decisione del senato accademico del Massachusetts Institute of Technology quella di dire abbiamo tutto questo potenziale di conoscenze abbiamo lavoriamo in un contesto privilegiato perché abbiamo dei mezzi dei fondi e un accesso alle risorse che altri nel mondo non hanno cosa possiamo fare? condividerlo in modo open e questo è quello che hanno fatto a cascata sono nate le licenze Creative Commons a cascata sono nati i termini Open Educational Resource Open Educational Practice Open Pedagogy tutto dopo prima c'è stata questa decisione pratica in un senato accademico di una singola università nel mondo dunque cos'è Enrose un progetto nel quale c'è questo crescotto a disposizione come risorsa principale in cui chiunque senza una login senza una password può giocare per modificare i parametri che contribuiscono vedete qui a destra in alto la temperatura prevista nel 2100 a livello terrestre questa temperatura non è sostenibile ed è in continuo aumento questa temperatura farà sciogliere nel tempo tutti i ghiacciai farà innalzare il livello degli oceani cancellerà dalla faccia della terra una serie di coste per cui quelle italiane è una grandissima e vasta area del nord america ma di tutte le coste di qualunque continente cosa possiamo fare per impedire che la temperatura aumenti di 3.6 gradi centigradi e si mantenga come aumento sotto i 2 gradi nel 2100 che è ciò che viene valutato essere sostenibile non è ottimale l'ideale sarebbe 0 gradi di aumento ma fino a 2 gradi nel 2100 è sostenibile cosa si può fare oggi per invertire questo trend di aumento della temperatura si può lavorare su una serie di parametri questi sono tutti i parametri quello che succede in Enrose adesso entriamo perché adesso andiamo a vederlo direttamente quello che succede in Enrose è che io posso guardate il mio mouse tranquillamente dire che cominciamo a diminuire l'utilizzo del carbone ok e io qui ho fatto una modifica che cambia anche il parametro che c'è scritto sotto finora sono nello status quo non so se vedete a sufficienza vediamo se riesco a ingrandire un filo non riesco in realtà ingrandisce solo i non si vede perché non è non riesce nel caso guardatelo direttamente del vostro browser comunque la scritta qui sotto è status quo cioè per ora io ho diminuito di poco questo parametro e la temperatura è diminuita di 0.1 gradi se io continuo a muovermi adesso diventa tassato se io mi muovo un po' di più diventa molto tassato quindi la diminuzione qui sono arrivata a 3.4 gradi ma sono davvero molto tassato quindi come dire la fonte di energia in questo caso è diminuita in termini di utilizzo del carbone ma da solo ho fatto sì che crescessero tantissimo le tasse a carico dei cittadini vedete che qui questa linea è diminuita intanto quindi si è abbassata un po' al di sotto di quella che è la previsione però vediamo cosa succede se io aumento l'utilizzo delle energie rinnovabili finora non ho cambiato niente quindi non basta ragionare sulle energie rinnovabili vediamo cosa succede se aumento l'utilizzo delle energie nucleari riesco ad agire un po' però anche queste guardate come poco cambia diminuisco l'utilizzo dell'olio scusatemi dell'olio del petrolio diminuisco l'utilizzo dei gas naturali come il metano voglio aumentare e arrivare al punto di rottura con lo zero carbon ma sono ancora 3.2 gradi guardate come vedete non abbiamo qui il tempo per entrare nel dettaglio ma guardate come in un attimo io posso già vedere da ignorante che le mie azioni hanno immediatamente una conseguenza qui dentro dal primo livello ok e se la popolazione aumenta vedo anche come influisce la variazione della popolazione sul numero sulla temperatura e vedo anche mentre faccio salire il parametro che la temperatura diminuisce di poco ma sono aumentate tutti gli altri parametri guardate lo schema in alto a sinistra mentre io mi muovo guardate come cambia se diminuisce la popolazione chiaramente diminuiscono i consumi e diminuisce anche la temperatura però non posso pensare che la popolazione diminuisca molto o quantomeno posso partire dallo stato attuale e vedere che cosa accade in base a come potrebbe muoversi il numero degli abitanti della terra e poi anche della crescita economica se abbiamo pochissima crescita economica caspita come cambia in fretta lo schema e come cambia la temperatura se invece la crescita economica sale anche se io ho abbassato i consumi e anche se ho lasciato la popolazione così com'era cambiano i consumi e aumentano quindi ecco questo giusto per darvi un primo livello perché il livello poi di approfondimento è ok mi interessa approfondire le energie rinnovabili entro nell'area guardate ho fatto un click sui tre puntini lo rifaccio sono andata qui ho fatto click sui tre puntini dell'energia rinnovabile e questo lo posso fare per qualunque posso guardate quanti altri parametri ho posso vedere anche i grafici meglio e posso chiedere aiuto per avere degli esempi di cose che possono essere fatte quali sono le dinamiche e quali sono gli approfondimenti poi per ciascun approfondimento a volte ho anche un approfondimento ulteriore ecco non è una cosa che possiamo esplorare insieme in questo momento ci siamo quello che posso fare però è chiedervi intanto guardate qui posso condividere il mio scenario e dire ai miei studenti ho provato a lavorare su questi parametri pensate ai diversi livelli a come li volete coinvolgere e a quello che volete fare con loro e anche a livello scolastico chiaramente posso chiedere anche di resettare tutte le policy quindi posso andare in simulation posso resettare tutte le assunzioni che ho fatto e posso resettare le policy e le assunzioni oppure posso dire lavoriamo sulle assunzioni che assunzioni voglio fare dunque vediamo voglio lavorare sulla riforestazione posso dire alcuni di questi parametri nel mio stato non sono a mia disposizione perché il livello di riforestazione non è a mia disposizione come uno dei parametri lo blocco allora e quindi lavoro sugli altri parametri posso lavorare in inglese e guardate posso lavorare anche in altre lingue quindi io adesso vi faccio vedere che adesso vi ho fatto vedere un livello di tipolità maggiore ma potete anche lavorare con questo lavoro localizzato in italiano nulla vi vieta anche di andare a vedere che tipo di guide ci sono se ci sono degli esempi che supporto c'è e soprattutto questa è la parte che vi invito di più a guardare la formazione perché Climate Interactive non ha creato solo una piattaforma con i migliori elementi migliori che ci sono all'MIT per ciascuna delle aree di intervento e che continuamente continua a lavorare per tenere questo cruscotto aggiornato con le scoperte scientifiche ma ha messo a disposizione anche dei corsi e quindi ci sono dei corsi che si possono seguire per lavorare gratis per lavorare con Engroud per conoscerlo meglio alcuni sono online alcuni sono in inglese ci sono alcune versioni con lo spagnolo e il tedesco disponibili e non è richiesta esperienza quindi i corsi sono fatti in modo tale da consentire a chiunque di imparare a usare Engroud non solo c'è la possibilità di diventare degli ambassador di Engroud e dopo aver conosciuto Engroud quando ne ho parlato per la prima volta qui al Politecnico con i nostri docenti la parte divertente è stata che abbiamo scoperto di avere un passadolo in casa adesso io mi devo fermare perché se no non lascio abbastanza tempo a a Jonathan di raccontarvi la sua parte quindi esplorate Engroud perché avete delle risorse online che sono pratiche quindi sono strumenti a vostra disposizione per usare Engroud in aula sono pratiche open quindi Climate Interactive non si è fermato a creare il cruscotto che è la risorsa open raggiungibile da chiunque ma ha creato anche tutte le risorse di dettaglio che voi potete riusare adattandole a quello che serve a voi potete seguire i corsi prima potete proporre i vostri studenti in base al livello che hanno loro e potete usare le attività pratiche per chiedere ai vostri studenti di usare Engroud ci sono ambassador in tutto il mondo quindi se volete creare anche qui pensatevi come co-creatore di una pratica open coinvolgendo un altro docente con il livello scolastico di cui vi occupate voi in un altro paese o più di uno e fare per i vostri studenti una proposta di una attività di un pomeriggio di una mattina condivisa con altri in base al fuso tenetele presente per lavorare insieme e giocare insieme sui parametri così da capire insieme come possono influenzare l'evoluzione del cambiamento climatico e magari essere anche ispirati per intraprendere poi una carriera che vada una carriera universitaria e professionale che vada a lavorare su questi temi adesso vi faccio un esempio però a questo punto credo sono ancora indietro questa parte degli esempi open book ve la lascio più nelle slide ma volevo stimolarvi a ragionare anche sul fatto che anche un esame come esame proprio di valutazione può essere progettato come pratica open e un esempio di questi può essere un esame open book cioè un esame in cui io ai miei studenti dico tenetevi tutti i libri aperti l'esame dura una settimana a me interessa non che voi facciate tutto senza utilizzare i materiali didattici ma che usiate i materiali didattici per risolvere un problema che vi presento e prendetevi addirittura una settimana di tempo per portarmi la soluzione del problema che voi riuscite a costruire a partire da tutti i materiali didattici che avete avuto a disposizione finora se volete risolvere questo problema insieme ai vostri colleghi di corso gli altri studenti ditemi chi siete e portatemi una soluzione al problema collaborativo e questo per me avrà il valore dell'esame per ciascuno di voi ed è quello che discuteremo alla fine di questa settimana quindi la discussione dell'esame sarà la vostra presentazione della risoluzione del vostro problema l'avete fatta in tre in cinque per me è importante che ciascuno di voi abbia avuto un ruolo nella ricerca di questa soluzione e così come poi avviene nel resto della vostra vita le fonti le avrete a disposizione è importante che voi abbiate imparato ad acquisire un approccio critico a queste fonti così da trovare la soluzione migliore al problema perché è il problema che dovrete risolvere ecco cominciate a pensare agli esempi di esame open book in quest'ottica e poi io vi qui nelle slide vi ho lasciato i link per andare a vedere come in questo caso in questo esempio che secondo me è molto interessante di questo corso di introduction to probability e statistics dell'MIT sono stati proposti sia gli esami open book come risorsa ma anche la descrizione di come il docente e da qui accedete direttamente al link come il docente li ha raccontati perché ha voluto usarli in quel modo e una serie di note che vi dicono come è stato strutturato l'esame e perché perché li presentiamo come risorsa open anche qui molto brevemente perché sono costruiti come pratica open in sé con tutte le caratteristiche che vedete qui del pensare alla costruzione di un percorso di apprendimento che sia coerente che quindi l'esame finale vada davvero a valutare come l'apprendimento è avvenuto i risultati dell'apprendimento nella pratica come è stata costruita la prova con una rubrica di valutazione che desse un peso maggiore alle parti della prova che sono più rilevanti come questa rubrica di valutazione può essere condivisa con gli studenti così da decidere insieme se i parametri rispondono a quelli che anche gli studenti vogliano essere i parametri sui quali essere valutati e come attivarla con che tempi quanto tempo dare agli studenti fargli vedere che c'è fiducia nella loro capacità critica del scegliere le risorse e i tempi per creare il lavoro insieme e poi qual è la parte open usare le risorse open in sé ai rubrics che è una risorsa che vi linko qui è un modo per strutturare le risorse open scusatemi come creare una rubrica di valutazione open insieme anche agli studenti o ad altri colleghi e come questa rubrica può essere rivista con gli studenti per validare insieme i criteri sui quali poi alla fine si va a valutare l'efficacia del percorso di apprendimento per tutti io sono bravo come docente nella misura in cui ho facilitato per i miei studenti il percorso di apprendimento migliore possibile e in una pratica open lo studente è chiamato a ragionare a concettualizzare a risolvere problemi analizzare uno scenario individuare le regole i modelli i processi applicati e proporre alternative per raggiungere uno specifico risultato tutto questo sta anche nella pratica educativa a prescindere quando poi anche questa pratica viene condivisa con una licenza che permette di riusare i risultati e il percorso in sé allora è diventata a tutti gli effetti anch'essa open vi lascio anche degli esempi di come gli studenti possono essere formalmente riconosciuti come coautori e qui vi lascio dei link a delle risorse che non pensavo di farvi vedere ma pensavo comunque di condividerle nelle slide come io faccio sì che lo studente sia davvero riconosciuto come coautore e vi ho lasciato degli esempi di come certe università e certi contesti prevedano già uno student agreement un accordo con lo studente perché lui possa dirmi con che licenza mi acconsente a riusare le proprie risorse e anche quali sono le formalità queste formalità che da noi ancora non ci sono diciamo localizzate nel contesto italiano vi ho portato però degli esempi che sono guidanti per capire come funziona all'estero per ora e come noi possiamo essere ispirati da questo e qui io mi fermo fermo anche la mia condivisione adesso se riesco a uscire dalla condivisione meglio perché vorrei che adesso fosse Jonathan a condividere il proprio schermo e a raccontarci Jonathan un quarto d'ora pensi che ti possa bastare così che poi abbia in cinque minuti sì 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 facciamo qualcosa sì sì certo ottimo allora adesso lascerei la parola a Jonathan che vi ricordo parla in perfetto italiano anche se arriva dagli Stati Uniti e nel caso lo aiutiamo noi e lavora per Creative Commons anche come facilitatore ed è un esperto decisamente di licenze open Jonathan a te la parola grazie allora sto cercando di condividere lo schermo vedete eccoci qua sì il mio schermo vediamo vediamo benissimo grazie ok allora allora come ha detto Paola sono sono cresciuta negli Stati Uniti e sono sei mesi che sono in Italia allora vi devo chiedere scusa per il mio italiano ma cercherò di fare il mio meglio conosco Paola tramite Creative Commons ma io che lavoro con Creative Commons parlo dopo un pochino del certificato e cosa faccio nel certificato in corso certificato di Creative Commons ma mi ha detto di parlare un po' di esempi che di open pedagogy pedagogia aperta che io ho usato nella mia vita e allora perché io sono stato professore di matematica in università di Stati di T per 25 anni prima di finire qua allora vorrei parlare di esempi e vorrei mostrare un pochino che 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 è una cosa non so secondo me gli esempi che Paola ha dato ci ha mostrato sono sono così belle così belli così complicati così che sembrano un lavoro strepidoso che uno può immaginare che se non insegno fisica se non insegno ingegneria se non ho gli SDGs o una di queste cose speciali che non riuscirò io stesso a fare OIP fare pedagogia aperta e volevo mostrare un po' pedagogia aperta che io ho usato fin dall'inizio e come anche ha detto Paola che spesso la gente sta usando pedagogia aperta ma senza usare questo termine allora vi volevo ricordare questa definizione di OIP e particolarmente la parte sotto che l'obiettivo è di migliorare l'accesso al sapere e anche il processo di apprendimento e di contribuire alla realizzazione del potenziale di chi apprende che secondo me è un po' un pericolo che usiamo la parola che diciamo pedagogia aperta è la stessa cosa come pedagogia buona e secondo me è un problema perché poi abbiamo già una parola buona è un po' buona allora voglio farvi vedere un altro modo di pensare che mostra un po' una connessione con OER e queste cose queste licenze e queste cose e che c'è un altro termine sempre di Wiley che lui ha detto OER enabled pedagogia diciamo pedagogia validata dalle OER che è l'insieme delle pratiche di insegnamento e apprendimento che sono solo possibile o pratico nel contesto delle 5R che sono caratteristiche di OER vi ricordo che Paola ha detto queste 5R sono anzi non mi ricordo di sempre sono di reuse redistribute remix retain revise credo che siano le 5R comunque voglio in questo modo voglio pensare a queste cose che l'insegnamento che possiamo fare utilizzando queste 5R guardando in basso a destra queste sono le cose chiavi che Paola ha mostrato prima la cosa degli studenti come protagonisti attivi della propria crescita in gruppo e singolarmente volevo mostrare che io come docente come professore voglio anche essere protagonista allora vi mostro la prima cosa che io ho fatto nell'OIP nella pedagogia aperta quando ero a Colorado State University Pueblo in 2012 più di dieci anni fa mi è stato dato da insegnare un corso al quarto anno la teoria dei numeri una settimana prima dell'inizio dell'anno scolastico allora c'era già un libro che è stato ordinato alla biblioteca alla libreria dell'università ma non mi piaceva molto allora ho deciso di fare scrivere il loro il proprio libro di testo gli studenti e come abbiamo fatto questo abbiamo usato un wiki abbiamo scritto usando il software media wiki e l'ho messo sul mio sito personale che io ho comparato il mio nome su internet proletts.net allora vi voglio mostrare un po' come è andato prima cosa è media wiki media wiki è un software libero e dietro ovviamente wikipedia e all'epoca nel 2012 era un po' difficile essere amministratore di 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 una media wiki di un wiki ma è diventato molto più facile adesso direi con ci sono aziende per web hosting tipo reclaim hosting per cui si può veramente scegliere cose tipo wikipedia wordpress press books tutte queste possibilità e soltanto puntando cliccando si può caricare questo software su un sito proprio senza essere esperto di questa tecnologia allora questo è come sembrava per i miei studenti questa è una pagina questa è la pagina la pagina principale di questo libro per il corso lo chiamavo class collaborative textbook e allora quello che facevo è che ogni giorno per ogni lezione andavo in aula e facevo una lezione c'erano due studenti ogni settimana che dovevano prendere appunti molto dettagliati e poi scrivevano qualcosa per spiegare quello che hanno imparato nella lezione loro lo davano a me io insieme con loro abbiamo scritto una versione da condividere con tutti gli studenti allora per esempio questo è un esempio di un capitolo che gli studenti hanno scritto io in aula oggi impariamo questo teorema si chiama formula di Euler e queste cose e poi c'era anche una dimostrazione di questo teorema e loro hanno fatto punti e secondo me questa è una cosa che io ho fatto puro per egoismo per avere più controllo per il mio corso però questa è pedagogia aperta perché loro hanno sono stati loro a scrivere il libro a decidere qualcosa era importante e poi imparare non soltanto la matematica per sé ma anche come spiegare questa matematica come scrivere matematica buona per esempio io dicevo sempre che io posso anche da lontano senza i miei occhiali posso vedere che questo è stato scritto da uno studente perché non ci sono abbastanza parole vedete in questa parte sotto dello schermo che ci sono un sacco di equazioni e noi che siamo matematici impariamo che sì le equazioni sono buone ma però bisogna spiegare che cosa significano eccetera e per esempio questa è una cosa che io ho scritto per spiegare come risolvere un compito del corso vedete che ci sono molto più parole mischiate con simboli e equazioni allora secondo me questo è un esempio di come io per pur non volendo usare questo libro che è stato ordinato ho creato questo libro che gli studenti hanno imparato non solo la matematica ma anche come esprimere la matematica e per fare vedere che se questa è una cosa che potete immaginare fare questo è come gli studenti hanno visto la cosa per scrivere questi capitoli c'è una parte per per Wikipedia se avete se avete fatto editori di Wikipedia sapete avete già visto questa cosa è come questo e poi ci sono i simboli matematici però ci sono codici speciali per esempio dollar dollar math cal r eccetera questo fa un simbolo e poi fia che sono senza tra queste sono le cose per fare il capitolo avere tutte queste opzioni e i miei colleghi all'università mi hanno detto ma tutti gli studenti perdono tutto il tempo che dovevano imparare matematica invece imparare questo sistema e invece quello che ho visto è che gli studenti non mi hanno fatto neanche una domanda che questo è stato facilissimo per loro imparare un pochino di cose per come fare la matematica in rete e questo non è per loro nessun problema allora vi consiglio che se fate una cosa così la tecnologia che può essere sembrare complicato per noi per gli studenti è facilissimo poi per spiegare come è andato avanti poi dopo che ho fatto questo corso due o tre volte ho deciso mi hanno abbassato un po' il livello di core del corso non era più al quarto anno ma invece al terzo anno e non volevo dare così tanta energia a insegnare come scrivere la matematica allora era importante avere un libro ma non che gli studenti dovevano scrivere il libro allora invece io ho scritto uno euro questo è il mio primo OER che si chiama Yet Another Introductory Number Theory Textbook anche un altro libro per introdurre la teoria dei numeri e questo è come uno comincia nel mondo dell'educazione aperta si prende una cosa che si vuole fare e poi comincia man mano e cominciando a fare questi piccoli passi però forse voi state pensando ma anche amministrare media wiki sembra troppo non voglio fare io ero un programmatore professionista quando era giovane ma forse per me è semplice per voi sembra meno non volete perdere tempo a fare questo e vorrei dire che un sacco di queste cose che fate potete fare i studenti fare per avere qualcosa che condividono con tutto il mondo tipo wiki tipo libro che scrivono insieme con voi come insegnante queste cose sono sostanzialmente come scrivere in gruppi di studenti una cosa che appare sull'internet e media wiki è molto per farlo ma ci sono tanti altri modi per esempio google docs che tutti i studenti che io conosco non so in Italia ancora ma google docs è facilissimo sostanzialmente un google docs è un sito web che può avere links che può avere immagini che può avere video tutte queste cose allora è come un sito web però con come scrivere google docs è più come come microsoft word ma quello che risulta non è soltanto un documento su computer ma anche un sito web e poi questo è il punto di vista di un mio ex collega di una mia ex collega professoressa Lagrieri Badinera mia ex università in Colorado che si chiama Lagrieri Badinera che è la direttrice del dipartimento di lingue mondiali direi e lei ha fatto questo vi faccio vedere se posso queste lei ha fatto questo sito e questo è un sito questa è una versione wordpress lei ha alla fine ha imparato come usare wordpress wordpress è un po' più complicato di google docs meno complicato di media wiki e lei ha prendendo però ha preso tutti i corsi del suo dipartimento e ha messo ho solo messo questi google docs su questo sito per fare vedere per farli essere trovabili dagli strumenti e per fare vedere il mondo che stavano facendo questa cosa che sono tutti con licenze aperte e volevo fare vedere un'altra cosa che lei ha fatto che è una cosa bellissima lei ha Comunidad y su sociedad queste sono tutti in spagnolo ovviamente spesso a livello del terzo anno quello che fa è che vuole insegnare come parlare come scrivere in spagnolo e sceglie un come si dice un tema di questa versione del corso e questa volta era il cibo e tutti gli strumenti hanno avuto una serie di compiti per tema uno la nutrizione la nutricione non parlo spagnolo e tema due qui no comunque tutti questi gli studenti fanno quello che lei trova tutti questi oggetti sul web e fa una collezione di link e come Paola ha indicato dobbiamo parlare dobbiamo pensare quando vediamo uno sito per l'insegnamento se è veramente una UR o no e questo sembra non un UR perché tutte queste cose non sono con lecce aperte però nei Stati Uniti esiste una cosa che si chiama fair use e per cui si può usare piccoli pezzi di cosa anche sotto il diritto di autore senza problemi ho imparato che non esiste proprio in Italia il fair use spero che c'è una cosa esplicita che parla di usi senza scopo di lucro per l'insegnamento allora secondo me questa idea di avere piccoli pezzi da giornali da altri siti web eccetera eccetera può funzionare anche in Italia allora questo è quello che Allegria ha fatto la professoressa Riva di Nera era di collegare tutte queste risorse anche se non essendo puramente completamente risorse aperte e gli studenti poi hanno scritto se andiamo un pochino indietro gli studenti non so vi invito di andare a guardare questo sito perché lei in tanti corsi gli studenti scrivono proprio loro i pezzi è come un libro di testo scritto da gli studenti insieme ma non soltanto ma anche fanno video e loro hanno lei ha una cosa che devono firmare per lasciare per dare il permesso per mettere questa cosa su internet allora questo è un esempio di come uno può cominciare a fare l'educazione aperta dare gli studenti la possibilità di condividere il loro lavoro senza un livello alto di tecnologia come MediaWiki o Wordpress fammi slide ciao ok poi l'ultimo mio esempio se c'è una cosa che ancora David Wiley che parla di disposable assignments compiti usa e getta che sono compiti che usano gli studenti a imparare qualcosa ma poi non hanno più scopo o motivi per essere trattenuti e poi al posto ci sono renewable assignments compiti rinnovabili che sono compiti che aiutano gli studenti ad apprendere ma anche contribuiscono allo stato generale di conoscenza degli altri per esempio esercizi di aritmetica sono usa e getta mentre i compiti di professori di bandiniera dove gli studenti trovavano ricette storie che facevano e mettevano sul suo sito sono condivisi con il mondo e allora sono questi compiti rinnovabili allora pensando ai compiti voglio parlare un secondo su quello che Paolo ha cominciato a parlare di open book esami open book io per il mio gusto io cominciò a un certo punto nel mio insegnamento di non usare soltanto open book ma anche open internet che durante gli esami i studenti potevano guardare tutto quello che vogliono potevano portare il laptop i telefonini e guardare perché il mio ragionamento era io da professionista io vorrei usare internet quando mi fanno quando qualcuno mi fa una domanda penso ah quel teorema come andava esattamente anche i professionisti forse non hanno in mente tutti i dettagli allora voglio dare questa cosa anche agli studenti per un altro passo in avanti che non che non usa molto le licenze però mi sa che faccio la stessa parte di pedagogi di cura pedagogia di cura di queste come liberating structures e di non usare di non dare voti per niente qui c'è un bel libro che si chiama ungrading why grading students undermines learning and what to do instead so che sembra difficile di fare questo in tutti i casi ma è una cosa che posso fare quando finisco per spiegare quando io faccio il certificato di creative commons questo corso io non faccio non do voti a tutti i weekly assignments ai compiti degli studenti io do un sacco di feedback agli studenti e poi loro scelgono il loro puntaggio e da questo punto di vista gli studenti non chiedono mai niente non devono avere io ho bisogno di un altro punto per riuscire in questo corso non facciamo mai questi discorsi facciamo discorsi sulla materia sul corso ma non sui voti allora secondo me se è possibile dove siete di cominciare a pensare a ungrading forse si chiama non valutazione è un modo di pedagogia aperto non voglio voglio tornare la parola a Paola grazie Jonathan un altro aspetto che è messo nei corsi creative commons quando si si pratica l'approccio di cui hai appena parlato tu è che molto spesso i voti che i partecipanti si danno da soli sono più bassi di quelli che gli assegnerebbero i facilitatori questo è un altro aspetto che dovrebbe liberare tutti dalla paura che ci siano delle valutazioni eccessive al limite è l'opposto quello che giusto è una cosa molto interessante perché c'è la giustizia sociale perché spesso le donne e le persone di colore che ci si danno i voti molto più bassi e gli uomini bianchi non così bassi è una cosa molto interessante mi dà l'opportunità di parlare con loro e dire no no questo è un lavoro bellissimo perché ti dai soltanto questo punto grazie jonathan nel frattempo mentre tu parlavi ho condiviso anche gli estremi di legge in cui nella legge del diritto d'autore vigente si fa riferimento perché c'è stata una piccola modifica nel 2022 oltre ad altre precedenti legata proprio all'uso in internet per fare riferimento qual è il punto in cui diciamo si dice più esplicitamente la cosa più vicina al fair use per noi che è proprio l'utilizzo parziale a bassa qualità siamo in chiusura grazie jonathan grazie mille anche dell'aver condiviso la tua esperienza personale torno a condividere io un secondo perché ho gli ultimi due stimoli da darvi li trovate poi anche nelle slide uno è siccome il tema è molto caldo e magari a qualcuno di voi può interessare una pratica che c'è in corso oggi ed è aperta a raccogliere diciamo contributi da parte di chiunque quindi siete tutti benvenuti su idee creative per utilizzare l'intelligenza artificiale nell'educazione e che è un lavoro che è in corso tuttora fino a fine marzo a cura di alcuni ricercatori alcuni docenti che si occupano di educazione aperta di creatività nell'approccio attivo all'apprendimento e che quindi siete tutti invitati a guardare e a riusare se volete affrontare questo tema in modo creativo con i vostri studenti e in modo critico perché loro si avvicinano alle nuove tecnologie senza esserne spaventati ma usandole in modo critico ne comprendano meglio sia i limiti che i vantaggi questo giusto per darvi un input e un altro input che ci tengo a darvi è di un altro open textbook dove sono state condivise alcuna di Alexis Clifton e Kimberly Davis Hoffman che sono due persone eccezionali nel mondo dell'open education che hanno raccolto appunto una serie di indicazioni di approcci pedagogici aperti sia per pensando a tutte le figure coinvolte inclusi i bibliotecari che possono avere un ruolo chiave nello stimolare la didattica open per salutarci vi lascerei con una serie di domande che sono domande ne parlavo con Jonathan prima che in realtà poi noi ci poniamo molto spesso e che sono quelle sulle quali personalmente continuo a ragionare anche pensando ad ogni nuova risorsa che si crea le domande critiche sono chi è incluso chi è accolto chi invece è escluso e chi è marginalizzato stiamo parlando di risorse digitali tutto il tempo possono avere anche una versione fisica cartacea o in altra forma ma la condivisione passa attraverso la rete quindi passa attraverso dei device una connessione che può essere più o meno buona e più o meno continua quindi in contesti dove la connessione va e viene o dove l'elettricità va e viene l'accesso è già difficile poi parliamo di risorse che magari hanno un livello di visibilità e di familiarità diciamo collettiva in alcune zone del mondo e meno in altre oppure risorse che vengono ricercate o diventano più o meno ricercabili se caricate in un contesto o in un altro perché il contesto le rende di per sé più affidabili di altre o magari un contesto non contribuisce a rendere una risorsa formalmente più affidabile quando invece magari ha un contenuto perfetto quindi queste sono domande sulle quali ragionare perché citare una risorsa o meno ed è un po' quello che ho fatto anch'io se ci pensate oggi citando fonti che includano o escludano risorse da altre fonti che includano esempi situati in un contesto o in un altro e che possano potenzialmente essere già anche attraverso questo tipo di presentazioni più o meno rese note e poi chi viene messo a proprio agio virtualmente emotivamente e fisicamente chi viene invece messo in difficoltà nell'uso di queste risorse come questo avviene perché questo avviene siamo consapevoli di questi aspetti mentre promuoviamo anche la open education anche le open education practices quali voci vengono sentite perché hanno un microfono che sia anche un microfono virtuale e quali poi vengono ascoltate perché alla pari di tutte le altre voci presenti si presentano magari con una voce cioè con un microfono meno potente che può essere un nome istituzionale meno potente o può essere un canale meno potente o un formato meno potente e quanto invece noi abbiamo la voglia e l'intenzione di andare a dare a tutti un microfono che sia equo e cosa si può fare quindi per incentivare un approccio che sia sempre più equo e sempre più inclusivo per tutte le voci che hanno legittimamente diritto ad essere ascoltate questo è un po' quello che non solo in questo contesto ma è proprio un approccio che l'open education cerca di avere e cerca di promuovere ed è un po' quello che mi piacerebbe lasciare come domande a voi per vedere se anche voi volete essere coinvolti in modo critico in questo percorso così che anche i vostri studenti lo ereditino un po' da voi o lo mettano in discussione con voi i ragazzi sono già molto attenti e molto attivi sia sui fronti della giustizia sociale che sui fronti del cambiamento climatico aiutiamoli anche attraverso le risorse didattiche e gli approcci che noi stessi promuoviamo ecco questo sarebbe un po' l'invito basta direi grazie a tutti è stato un piacere avervi è stato un piacere rispondere alle vostre domande quando ce n'erano mi piacerebbe che riuscissimo a vediamo se riesco anche a chiudere la condivisione mi piacerebbe che se avete voglia spendeste due minuti per compilarci anche il form di sono solo quattro domande di gradimento come ve l'avevo preannunciato che oggi ci sarebbe stato ma ci piacerebbe avere un vostro riscontro sia sul gradimento di questi incontri sia anche e soprattutto su altre tematiche che vorreste approfondissimo perché non c'è come avere i vostri input per fare un servizio migliore e sempre nel rispetto delle licenze open non apriamo i microfoni le immagini qui perché se no ci sarebbero i problemi di privacy ma siete tutti invitati a ridiffondere le risorse che condivideremo subito dopo questo incontro e eventualmente a farci sapere sia nel form che anche via mail se volete se ci sono tematiche ma soprattutto col form perché ci aiutate a gestire meglio le vostre richieste eventuali richieste vostre di approfondimento o di altri incontri che potremmo organizzare per tutti Jonathan grazie ancora se c'è qualcosa che vuoi aggiungere questo è il momento no no grazie a tutti quanti ecco io non sono dottoressa vedo che tanti mettono dottoressa corti io non sono dottoressa sono Paola se avete domande siamo felici di rispondere grazie ancora a tutti adesso interrompo la condivisione scusate mi interrompo la registrazione e grazie a tutti per la partecipazione grazie Jonathan grazie a tutti